Hai difficoltà ad arrivare alla fine del mese? Hai perduto il lavoro? La soluzione è a casa tua! La tua tavola privata per sostenerti. Diventa cooker come Federica, Antonio, Teresa, Enrico e tanti altri e inizi subito a lavorare. Il cooker accognerà People a casa sua. Gli servirà quello che ha cucinato in famiglia, ad un prezzo molto economico. Il cooker non è uno chef, ma uno che condivide la sua tavola. Tanti cooker trovano in PeopleCooks un'opportunità di lavoro. Ospitando People hanno un reddito aggiuntivo. Grazie a PeopleCooks pagano la rata del mutuo, coprono le bollette e riescono ad arrivare alla fine del mese. Iscriversi come cooker è semplice. PeopleCooks.it Insieme a tavola per sostenerci.